Siamo al liceo scientifico Enrico Mattei da cui partirà il corteo di manifestazione degli insegnanti e studenti fino al municipio. Le motivazioni che spingono questa protesta sono la legge aprea contro cui si battono gli insegnanti perché gli venga riconosciuta la loro professionalità e perché la scuola non diventi pian piano privatizzata. Ma sentiamo dalla viva voce dei protagonisti le reali motivazioni. Le ragioni sono tante. Da anni i vari governi che si sono succeduti hanno quasi distrutto la scuola pubblica con tagli a più non posso. E questo diciamo era forse un'occasione unica, irripetibile perché quasi tutti i sindacati sia i confederali, CGL, CISL e GUIL sia SNALS che GILDA erano d'accordo per lo sciopero appunto del 24 novembre. All'ultimo momento la maggior parte dei sindacati hanno raggiunto un accordo e quindi hanno ritirato lo sciopero, la CISL, la GUIL, lo SNALS e la GILDA e sono rimasti in campo soltanto a mantenere lo sciopero la CGL e i COBAS. Quello che posso dire per quanto riguarda la mia scuola, il liceo Matteo appunto, è che c'è una forte adesione, quasi tutti i docenti, diciamo quasi un 95% e oggi aderiscono allo sciopero. Ci ha detto alcuni sindacati si sono ritirati perché hanno ottenuto degli accordi come il non aumento delle 18 ore settimanali, perché voi non siete d'accordo comunque e non siete d'accordo con i sindacati? Hanno raggiunto l'accordo di recuperare gli scatti di anzianità per quanto riguarda l'anno 2011, servono per questo però 480 milioni, il Ministero delle Finanze ha a disposizione solo 80 milioni, gli altri 400 vanno a reperirli appunto dal fondo d'istituto. Questo forse ancora non l'hanno capito gli altri sindacati, perciò ripeto questa era un'occasione unica. In questa protesta qual è il ruolo degli studenti? Sono partecipi al vostro sciopero? Beh gli studenti senz'altro sono dalla parte nostra perché insieme alle famiglie oggi abbiamo anche alcuni rappresentanti dei genitori, abbiamo gli alunni che ci aspettano per partecipare con noi al corteo perché ormai si è sfatata la favola dell'insegnante che lavora poco, che fa solo le 18 ore eccetera. Loro sanno che la scuola è l'unico mezzo, l'unico strumento, la conoscenza, è l'unico strumento che hanno per combattere, per essere uomini domani, per poter utilizzare il loro libero arbitrio, per praticare la pace, insomma a scuola loro vengono, imparano e noi formiamo ragazzi, formiamo personalità che saranno uomini domani. Gli insegnanti e studenti dell'Enrico Mattei sono pronti a partire per il corteo, nonostante non siano più sotto legida di tutti i sindacati. Loro chiedono a forte voce che la governance della scuola non diventi come quella aziendale, il cui profitto è ben diverso da quello scolastico e il cui scopo appunto è quello economico. Studenti e insegnanti per una protesta corale, ma vi coinvolge allo stesso modo? Sì, in questa protesta siamo tutti coinvolti allo stesso modo, tanto che il partito dei professori è arrivato fino a noi, noi che ci teniamo appunto a farci sentire contro questa lotta, la lotta contro la privatizzazione delle scuole, contro i tagli all'istruzione, contro l'aumento delle ore quindi di insegnamento e di lavoro, che possiamo dire che sono già sufficienti quelle attuali, il diritto allo studio che ci viene quasi più negato perché non può essere comparato alle risorse economiche di una regione, le risorse economiche del nord sappiamo che quindi saranno maggiori delle nostre e non per questo significa che noi dobbiamo essere più ignoranti e meno acculturati di quelli del nord.